Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, sono Daniele come ben sapete e sono qua a fare un video selfie dopo tanto tempo per portarvi un altro annuncio. Vi dico che questo video è stato girato con la fotocamera frontale di Xiaomi Mi 4, quindi con la versione V6, quindi da questo potete anche capire i microfoni come funzionano e come funziona la fotocamera frontale che così a vedere dallo schermo sembra faccia dei video veramente impressionanti. Ma andiamo a fare questo annuncio importantissimo, allora Spazietec cerca altri collaboratori per ripartire alla grande con il sito, o meglio non ripartire ma andare avanti in quanto abbiamo capito che per riuscire a, non diciamo a paragonarci ad altri siti perché ovviamente noi non abbiamo una redazione pagata, non siamo retribuiti, quindi è gente che ha la passione, gente che lo fa per passione, quindi non potremo mai avere 50 articolisti pagati e che cosa. Semplicemente cerchiamo 5-6 persone che possano aiutarci a collaborare nella creazione, cioè in realtà nel portare avanti il nostro progetto Spazio Hitec. Come ho già detto non saremo retribuiti anche perché il guadagno è di circa 1 euro al mese, quindi ovviamente si fa per passione. Ci deve aiutare quindi a portare avanti il nostro sito Spazio Hitec e quindi creare articoli per il nostro sito. Stato articoli che non saranno le solite, oltre alle classiche notizie importanti come presentazioni, mica presentazioni, anche notizie più ricercate diciamo, quindi qualcosa che fa un po' oltre le solite cose. Per chi appunto ci segue sul sito ha visto che fino ad oggi comunque i nostri articoli non erano basati su notizie generali, ma andavano proprio alla ricerca di qualcosa di un po' più particolare, carino e c'erano circa 3-4 notizie al giorno, quindi comunque sia un sito che si impegna, perché ci stiamo impegnando tutti molto bene, però abbiamo bisogno di altre persone per riuscire ad arrivare a una quantità di articoli maggiore al giorno. Quindi se siete interessati a questa collaborazione con noi, se la vostra passione è la tecnologia come la nostra, mandateci una richiesta appunto di collaborazione che potete farlo o tramite i commenti sotto a questo video, o tramite Facebook, prima mettete un mi piace e poi scrivete magari un messaggio sulla chat di Facebook, oppure direttamente alla nostra mail che metteremo comunque in descrizione che è spazioitech.gmail.com. Aspettiamo quindi le vostre richieste, risponderemo a tutti e poi vi faremo un po' sapere come avverrà la scelta dei collaboratori. Penso di aver detto tutto anche riguardo a questo nuovo progetto, vi aspettiamo in numerosi. Ciao a tutti da Daniele per Spazio Hightech.